Uno dei principali marchi italiani, al massimo della sua eleganza, nel suo negozio nel cuore di Hong Kong, che ha resistito per un quarto di secolo alla prova del tempo. Il Mandarin Oriental Hotel a Hong Kong è il luogo in cui Salvatore Ferragamo ha localizzato in posizione privilegiata la sua attività e ha sviluppato un mercato dinamico. Questo negozio è stato un po' l'icona del nostro sviluppo, siamo stati qui oltre 25 anni e 25 anni per un negozio in questa parte del mondo è un tempo incredibilmente lungo. Considerando l'incredibile evoluzione dei mall e la velocità di cambiamento di questa città. In questo momento il negozio presenta il lancio della nuova collezione pre-autunnale di borse e fiamma, dal nome della figlia di Salvatore Ferragamo. Abbiamo una serie di prodotti che sono i nostri prodotti iconici e in più abbiamo una serie di prodotti speciali, borse in compodrillo, prodotti che facciamo customizzati su richiesta del consumatore soltanto per questo negozio. Hong Kong ha definito la formula con cui presentare il meglio dei suoi prodotti, realizzati in 87 anni di attività, abiti, scarpe e accessori in pelle, non solo per la vendita, ma anche per presentare uno straordinario patrimonio italiano. Hong Kong è stato per buona parte dei marchi del lusso e per noi certamente un mercato estremamente dinamico. Hong Kong è stata un po' la formula 1 del retail. Hong Kong lo shopping di lusso non riguarda solo l'acquisto, ma è anche una forma di svago ed è qui che Salvatore Ferragamo e altri marchi sperimentano nuove formule di vendita. Spesse volte poi queste formule vengono riutilizzate anche in altre parti del mondo e in particolare dal 1995 Farragamo ha aperto 75 negozi in più di 30 città nella Cina continentale e nuove aperture sono previste nel 2014, ma Hong Kong continuerà ad essere la base per lo sviluppo commerciale nei mercati asiatici. Il numero di turisti cinesi a Hong Kong nel 2013 è aumentato dell'11,7%, con un totale di 54 milioni di presenze. È la più famosa destinazione asiatica e per i sempre più sofisticati consumatori del lusso cinesi, la moda resta al primo posto nella lista degli acquisti. Hong Kong rimane un riferimento per molti consumatori cinesi e non solo consumatori cinesi, ma rimane anche un riferimento per i landlord cinesi che guardano a Hong Kong come un modello da imitare e da replicare. In questo marchio, Made in Italy, c'è la chiave che conferma la maestria di Farragamo e ne sottolinea lo stile distintivo. Credo che quello che faccia veramente la differenza sia che chi fa prodotti di lusso è costantemente la ricerca del meglio. Cittadino italiano, ma residente a Hong Kong da molto tempo, Christian descrive le differenze nel lavoro e nella vita. Sono due città estremamente diverse. Roma è una città che non cambia nel tempo, rimane sempre la stessa, rimane una città stupenda, ma per lavorare Hong Kong è una città estremamente dinamica, è una città estremamente efficiente e soprattutto è una città che evolve molto rapidamente. Grazie per la visione! Grazie per la visione!